Questo governo è la nuova vanna marchi della politica, nel vendere fumo è bravissimo, infatti spaccia per produttività quel che letteralmente e documentalmente è occasione persa per una maggiore politica sociale, riduzione di salari reali, accelerazione di recessione nel paese. Allora se questo provvedimento produce più recessione, meno salari e meno politica sociale perché la chiamate produttività? Chiamatelo provvedimento truffa.